A distanza di tre anni dall'ultima edizione, era il 2019, torna a svolgersi a pieno regime il moto incontro Un Sorriso per Maurizio, giunto quest'anno alla quinta edizione. A Loreto a Prutino, domenica 10 luglio, sono attesi motociclisti da tutta la regione per quella che è anche l'ottava prova del trofeo turistico regionale. L'organizzazione è come sempre affidata alla locale associazione Motoclub 2P Passo Cordone. A differenza delle scorse edizioni, il ritrovo è fissato per le ore 8.30 in Piazza Garibaldi, da dove si partirà poi alla volta del giro per i centri dell'area Vestina. Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, l'associazione ha spinto sempre per la ripartenza dell'evento, che omaggia a una figura cardine. Dopo il 2019 di aver fatto l'ultimo moto incontro, un sorriso per il nostro amico Maurizio. Riprendiamo dopo due anni di lockdown, il 10 di luglio, domenica a Loreto a Prutino, il quinto moto incontro, intitolato a lui, riservato a tutti l'iscrizione per tutti i motociclisti, sia regionali che fuori regione. L'iscrizione è aperta, vi aspettiamo e vedremo delle belle.